PAPARA 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 Punctata numero 238 de rompi balè shoo Olè, 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 i rompi balli show Olè, 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 i rompi balli show Olè, 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 i rompi balli show Ladies and gentlemen, signore e signori Puntata numero 238 del rompi balli show Speciale 900 iscritti Grazie a tutti quelli che mi seguono su Youtube Su Facebook e su Instagram Grazie a tutti Ebbene oggi vi racconterò cosa mi è successo Cosa mi è successo oggi pomeriggio Ho conosciuto veramente una persona splendida Guardate, un tale che si chiama Ruggero Decenie Eh sì 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 Poche parole stavo correndo nel bosco Così, no? Allora a un certo punto Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Ogni tanto faccio così, vabbè E incontro questo signore, tutto vestito elegante Proprio in maniera impeccabile E mi ferma e mi dice Scusa che se avessi da accende Che mi devo fumare Air Fiodena Allora lei ha detto Guardi, sinceramente gli accendini sono superati Le faccio vedere io come si fa Allora ho fatto così Allora ho fatto così C'è campo l'Ole C'è campo l'Ole C'è campo l'Ole Fiodena accenditi Sì 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 Fiodena accenditi Sì 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 Fiodena accenditi E a quel punto il Fiodena si è acceso Il signore mi guardava così A un certo punto mi fa Vedo questo qua che fuma E fa così Allora io ho capito Osti questo come me Allora io facevo così E lui mi rispondeva E io facevo E allora io facevo E lui mi rispondevo C'è campo l'Ole C'è campo l'Ole C'è campo l'Ole Insomma Facendo così abbiamo fatto Dei discorsi veramente Entusiasmanti Innanzitutto ha detto Che non sono come il suo figlio Che insomma Mi ha fatto capire Che non è che sia un sveglione E poi dopo Abbiamo parlato Sempre facendo così Di filosofia Del campionato di calcio Del cubo di Kubrick Sì sì guarda Queste cose qua Veramente interessante Mi ha raccontato anche di quando Ha preso un'ambulanza Non so cosa ha fatto Con l'ambulanza Il figlio che non ha capito niente Ha fatto su un gran casino Eh sì sì guarda Sono state veramente Le due ore più belle della mia vita Grazie Ruggero Di Ceglie E comunque Grazie anche a voi Che seguite i miei video E se volete iscrivervi E se vi volete iscrivervi al canale Fatelo pure Grazie di cuore E scusate Ma sono ancora emozionato Per le 900 iscrizioni Al canale YouTube C'è capo l'olè C'è capo l'olè C'è capo l'olè Che è un personaggio Ciao a tutti Ciao Mi raccomando Iscrivetevi E mettete Il like Al video Ciao 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 ciao